La nostra Caritas Diocesana ha aderito insieme ad altre 70 diocesi al progetto di Caritas Italiana Protetto, rifugiato a casa mia. Quest'anno quindi, in occasione dell'Anno della Misericordia, lo dedicheremo a promuovere e realizzare un progetto innovativo, sperimentale, che vedrà insieme rifugiati e famiglie della nostra diocesi che si sperimenteranno in un'esperienza di accoglienza. Il nostro Vescovo ha deciso per quest'anno di scegliere questo progetto come opera segno del Giubileo, anche in risposta all'appello di Papa Francesco di accogliere e quindi di farsi prossimi a rifugiati, a persone richiedenti asilo e rifugiate che, come sappiamo, si trovano ospitate sul nostro territorio. Si tratta di un progetto nuovo per la nostra diocesi. Caritas Diocesana intende, attraverso un gruppo di lavoro e le proprie risorse, sostenere parrocchie, comunità e famiglie che vogliono provare a sperimentarsi in questo percorso. Non si tratta solamente di offrire pasti e un tetto e un luogo sicuro alle persone che si trovano ospitate sul nostro territorio, ma soprattutto di accompagnarle, di prendersi cura, di farsi prossimi a coloro che si trovano in queste situazioni e appunto di aiutarle nel percorso di integrazione verso un'autonomia completa. Per cominciare faremo anche e realizzeremo delle attività formative, un incontro di formazione per chi lo desidera, che possa essere un primo passo per impegnarsi in questo percorso. Realizzeremo cinque accoglienze, quindi verranno accolte cinque persone in base anche alle disponibilità che le comunità e le parrocchie segnaleranno e l'accoglienza durerà sei mesi, inizialmente questo tempo è il limite che il progetto prevede per cominciare un percorso di integrazione e di graduale inserimento sociale nel territorio. Per qualunque informazione ci si può rivolgere alla Caritas Diocesana di Fano, la sede in via Rinalducci numero 11, oppure chiamare allo 0721 827351